Riccardo il piccolato, pure! Riccardo il piccolato, pure! Spazio! Occhio ragazzi giallo! No! 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 Vai che iniziamo a scaldarci Luigi! Sì infatti non partire perché è un freddo! Idratare... Guarda che l'interno è meglio! le ultime ce le mangiamo ma ma se li devi fare quante volte? una a una lo so che te la volevo rifare questa mamma no è l'ultimo che dovrei pescarci sopra io devo partire e andare ma si e mi hai scappato un piedino sul piano